Questa mattina poco dopo le 11 a Fara Vicentino si è scatenato l'inferno, qualcuno lo ha definito un vero e proprio Far West. Spari, urla, una colluttazione tra un cittadino di origine magrebina e i carabinieri. Poi il dramma in via Crosara a Fara Vicentino con un agente della polizia locale Alex Frusti ferito gravemente da due proiettili al piede e al torace. Colpi sparati dal ragazzo extracomunitario in evidente stato confusionale che sarebbe riuscito a sfilare la pistola d'ordinanza a uno dei carabinieri mentre gli altri cercavano di immobilizzarlo utilizzando anche un taser. Lo straniero raggiunto da almeno un colpo di pistola è stato ucciso. Al momento c'è ancora riservo sull'esatta dinamica dei fatti anche se alcuni testimoni raccontano che il magrebino stava camminando lungo la strada dalla zona di Mason a piedi scalzi e con indosso una tunica. Durante il tragitto avrebbe importunato alcuni passanti e automobilisti. Sulle sue tracce probabilmente a seguito di alcune segnalazioni si era messa una pattuglia dei carabinieri che lo ha raggiunto in via Roma a Breganze per poi tentare di fermarlo appunto in via Crosara a Fara Vicentino dove in supporto è arrivata anche una pattuglia della polizia locale in transito. L'uomo avrebbe avuto fin da subito un atteggiamento aggressivo urlando Allah Akbar, Dio è grande e inveendo contro le forze dell'ordine. In una manciata di secondi la colluttazione si è trasformata in dramma con la pistola sottratta al carabiniere, gli spari, l'agente colpito e il magrebino ucciso dai militari. Alex Frusti, l'agente della polizia locale ferito, è ricoverato a Sant'Orso dove è stato trasportato e operato d'urgenza. Uno dei proiettili ha provocato il danneggiamento del polmone, attualmente il paziente è in terapia intensiva ma le sue condizioni sono stabili, respira autonomamente ed è vigile. Sull'asfalto i bossoli di almeno 6 o 7 colpi esplosi. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e ai soccorritori, sono intervenuti anche gli uomini della scientifica.